Tentativo di rapina nel centro commerciale Mongolfiera di Andria ed in particolare in una gioielleria. Tentativo non andato a buon fine. Tre i soggetti vestiti interamente di bianco e con indosso alcune maschere e cappellini entrati nella galleria commerciale intorno alle 10.30 di questa mattina, armati di spranghe ed entrati dall'ingresso A del centro commerciale per poi fuggire a mani vuote da un'uscita di emergenza posta nelle vicinanze. Le vetrine hanno retto ed immediato è stato l'intervento della vigilanza presente che ha messo in fuga i malviventi. Sul posto immediato anche l'arrivo di polizie e carabinieri, oltre ad un'equipe sanitaria del 118, intervenuta per soccorrere una donna fortemente spaventata dall'accaduto. Tanta paura tra avventori e dipendenti, nessuna notizia ancora su identità dei malfattori. La polizia sta analizzando le telecamere di videosorveglianza. Sul posto anche la polizia scientifica per gli ulteriori rilievi del caso.